Ciao ragazzi, io sono Aurors Scusatelo ragazzi, è un po' tardino Eccoci qui un'altra volta con l'arena iniziata con Jaina E niente, partiamo subito L'ultima volta vi abbiamo lasciato questo 3 a 1 Un po' scocciato Sì, perché insomma avete visto che il prete dell'altra volta ragazzi C'ha praticamente sfondato il culetto Però ha trovato le peggio d'arte in arena Non so come abbia fatto però Levere tutto meno 4 a 1 Levere tutto meno 4 a 1 Sì, sì, assolutamente Buder, questa volta abbiamo Buder Vabbè non è malissimo Non è malissimo Sto merendo di sete Scusate ragazzi, bevo un ottimo Sto merendo di sete Facce la masturbato Cosa? No, l'abbiamo già cambiato Ah ok, no, pensavamo ricrasciare Sì ragazzi, perché oggi I server danno un po' di problemi Stavamo facendo un po' una racket così Io e Sina che ci ha buttato fuori così Zombie c'è un'arena infame Mamma mia, davvero? Io direi che passi 1, 2, mettiamo Spider Tank Che mettiamo dentro? Questa non mi va a risolvere il problema adesso No, no Vabbè passiamo Perché dobbiamo mettere i coin Io non voglio mettere un mio Che poi muore sicuro Vabbè, mettiamo Spider Tank dei coin adesso Peschiamo? Sì, sì, Spider Tank dei coin È un po' inutile mettere quella carta adesso Tanto tutti gli amici che fanno Ci riduriamo adesso Inizia chi invita Beh, è iniziato troppo bene lui Vabbè, aspettando Mi sono messo una spaghetta anche con mio Abbastanza rinomata Vabbè Non va bene Perché no? Non lo so, c'è troppa roba Vabbè Ora Sì, esatto Non possiamo permetterci di andargli a lasciare questa carta ragazzi Mascula, 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 mascula Sì, certo Ti piacerebbe Beh, guarda Se mi mette No Ovviamente Allora Io Pescherei Ma peschi proprio E se proprio serve Io lo frosto Ma non serve Frostate Io ho 3 danni Mi riprendo Vado pure a 27 Me ne frega nulla Tanto che mettiamo Ci voglio tutti i minion che mettiamo Ma lui non credo Che mi vada da percare uno Snow Chugger Se io lo mettessi adesso E non possiamo pescare Vuoi pescare? Sì Vabbè Peschiamo raga Io mi fido di Sinek Perché comunque lui è Più bravo di me Io Oddio Vabbè Secondo me è buono Posso Possiamo Che un dopo Quinto turno Possiamo mettere I minion da 2 Più un minion da 3 Che metteremo Sia Snow Chugger Che cosa Tizio Air Golem Scusate Ma non ho la parola Ah ok Ho aperto il carto Ok Vabbè Anche pensando A mettere pecore Beh Mettere pecore E frustare Ci starebbe Io vado a far fuori Questa Cioè io pure questa Pecora è quella Pecora è quella Vado? Sì Non vuoi frustare niente? No Se potresti mettere pecore a golem Con le golem? C'è ammazza il golem Uno sulla pecora E rimane in vita Altre 5 Con Due Con uno di vita Si mette il golem Mettiamo? Sì Ok Passiamo Passiamo Al massimo C'è buttare uno Altre 2 Vediamo Vediamo Forse pure che facciamo Secondo me Ok Ok Un po' pure fa posire l'eroe No Più umano Più umano ragazzi Più umano ragazzi Beh Pure sta partita ragazzi A me non è iniziata bene Ah è Moonlight Night Stavo brutto Turno dopo Possiamo far fare subito Moonlight Night Con Jerry 3 Moonlight Night E poi fai Ice Lance Quello sì Per cui non l'ho tirata adesso E poi fai Questo è un batterio Non l'ho tirata Non l'ho tirata Ah sì Quindi mi serve un'abri In te Mi attendevo Let me think Let me think Giù di più Di più Di più Scegli di fare Di più Di più Di più Eh Di buttare tutti i miei A per fare la sergione Sì Che cosa fa? Che cosa fa? Il tizio è un po' indeciso Nonostante sia messo Molto meglio di noi Però Ma fa così? Fallo Tanto la come la fai pari Così Che butti Che butti Che butti Che butti Che murlocchi Non ci credo ragazzi Cioè Vabbè Vabbè Congela quello schifo Che le murlocchi Infame Fai io Fai io Fai io Con la spenza Quale? Ebbè Quello Direi Il 5-3 No Prima con Jerry Corsair Ah Se no Non funzionava Quale? Il 5-3 Ok E poi L'ammazzio Le nostre Sperpudentissime Ragazzi Sto la carta crea Un po' di problemi Eh ma Non stiamo messi bene Niente No Vabbè una frostnata Molto probabilmente Ragazzi Perdiamo anche questa Però Eh vabbè ragazzi Cioè Nel senso Turno dopo Io userei il 5-3 E fammi fare il 5 Se fossi lui Infatti Non è stupido Ragazzi Magari Lo fosse Che manca a mano Potiamo fare una bella cosa Se ci sono un monofilo Inoltre Tu farei una cosa Che è veramente Brutta Con Sid No Quasi Ragazzi Purtroppo Non andiamo a risolvere Nulla Ragazzi Cioè Neanche poterire Possiamo fuori Eh Ti ho detto Tu umana Eh Si potranno fare miragli Questa partita Non è neanche Ma con bel flame strike C'è uscito Niente ragazzi Infatti Non penso Andremo molto contanto Con questo deck Cioè Eh quel murlock È una vera Una bastardata E che purtroppo Beh Vedi Che vai a fare Quello è così Cioè 9-5 Ci vanno Vedi Da No No Ma Tutti Non va a risolvere Un cavolo 4-5-6-7-8-9-10 Ha praticamente vinto Mi mancava un danno in più Che sicuramente penso abbia Magari c'è un'arma Cucco 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 Dai Overpowered Come lo facciamo fuori Il 9-7 Ragazzi che schifo Che schifo di partita Mettiamo la parola fine A questa roma Il prossimo Eh ma in effetti Cioè Ragazzi 3-3 Lo schifo raro Il classico Vabbè senza magia Non è che stiamo allontano Io ragazzi Sto tenendo tutte le monete da parte Per fare le arene Ma se tutte le arene Sono così Sono già due arene Che facciamo E ci capitano Carte di merda Veramente Il block net è stato compri Cioè Io faccio le arene Per guadagnare più cose Quando invece Magari forse farei bene A comprare i pacchetti Ma lasciamo guardare così Non che resta sia bello Un 2 magari No Finalmente un 2 Sì Ma il 7 fa cagare Vabbè Dai Gli lascia Gli lascia Passiamo No Vuoi mettere lei? Sinceramente Non ha senso Infatti Metterla adesso Ragazzi Certo Ovviamente Perché lui Ha già in E gli è capito Il draghinino Capito? Coin Il tizio Going Fury A noi Mai Cosa del genere Sì Sai perché? Se metti i due Daunt Gli facciamo Per risultare Eh sì Eh vabbè raga Se metti i miei Con poca vita Ok Passiamo Perfetto Tira l'uno Che su? Sì Ti prego Chi è andato a 2-3? No Mai una gioia Vabbè Fai ping sul 4-4 Mai Una Fottuta Gioia 3-3 attacca Prima con 1-3 Prima il money E poi Uccide E poi Cioè raga Io non ci c'è Dove essere un bel 2-3 però Deve solo essere un 2-3 Cioè Pure Parmi di fuoco L'unica palla di fuoco Giustamente noi ce la dobbiamo Sprecare così Capito ragazzi Per forza Perché sta carta È una rogna Per forza sì Sì Cioè Dici vabbè Non c'hai due palla di fuoco C'hai una polymorph C'hai una colonna di fuoco Col cavolo ragazzi Eh vabbè però Insomma Direi che tiri Il tizio 2-4 Mi manca andammo Sì tira questo Questo? Sì E tira la mano La terza Ma tu ti fai? No E che risolvi? Il 2-3 Sì per forza Ah Sì Ma pure il 1-2 Tira pure il 1-2 Fai l'altro Un po' bello Tu dici il mago Non si dovrebbe curare I minion No Come fa curarsi Eh Gli effetti Eh Vedi Va bene Va bene Va bene No No Cioè glielo Potevamo far fuori subito Invece Tira Questo Ti ammazza subito Oltre Infatti non ha senso 5 Quanto danno c'ha 5 3 Attacca 5 5 5 5 Che vero Vedi Ah mamma mia Mamma mia Raga Mamma mia Io Fai Se fai 4 6 E ci usi 5 3 7 More E non mi ammazzi 2 1 Quindi diventa Un 3 2 Altre Se mi fai poter Su Eh vabbè Però non vale Cioè raga Tutto il mio piano È andato a farsi Come dire Raga Ma ce l'ho far fuori Guarda Tutti e due Le fatti Io Non c'ho parole Voi come fareste Con una mano Così Cioè Nel senso Dai raga Su No perché Uno potrebbe anche pensare Questi sono pippe A giocare in arena Ma manco per il cavolo Raga Perché non ci capitano Le carte Cioè Cristo santo Raga Non ci capitano Le carte Cioè Con un deck Del genere Quanto lontano Vuoi andare Dio Non ha senso Però raga A me è un po' rote Perché io Comunque Ci spai 250 monete Per cercare Di arrivo a 7 Almeno Sì E invece Ma ti dici C'è sto cavolo Che c'hai spesa A fa Eh Vorrei sapere Chi Vabbè Fammi Dai Se non ci rimuovano Poi Vabbè Oltretutto A tizio Ci mette pure Tre ore e mezzo Perché mi sembra giusto Ma fallo Dai E se no Fai Da faccio Quello Al prossimo Ok Vabbè Niente Raga Niente Oddio 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 8 8 Sì Rimaniamo a 4 Quale è che ha vinto Però ha sbordato Ha vinto Che schifo ragazzi Però ha sbordato Ha vinto Se non gli faccio Se non gli faccio fare questo Ma lo può fare subito Se non gli faccio fare questo Penso abbia vinto in ogni caso Sennac Che non gli faccio vedere Sì Quello sì Però Voglio dire Ci avrà una frasco Ha vinto Ha vinto Sì In effetti Niente Raga L'arena Più schifosa è questa Almeno Con Uther Nella scorsa Arena Eravamo arrivati A 4 Se non erro Qua ci siamo Fermati a 3 Raga Perché Arcoli L'ho fatto Ha vinto Stesso Mamma E raga Vabbè Niente A questo punto Raga Aspetta Facciamo vedere Che troviamo Vai di pressure Sennac Mi sono scordato Che ti danno anche I premi Ho pensato In effetti Ci vado così Mi hanno fatto Ne a casa Me Me Wow Un pacchetto Di gran torneo Di gran torneo Andiamo ad aprire insieme Raga Consoliamoci così Ma apri sto pacchetto Ma apri sto pacchetto Ma la finita Ma Poniamo fine Leggendaria Sì Magari Sì Ecco Magari Lo schifo raro Ovviamente Ho già tutto Perché che ve lo dico a fare Penso che le hai di quasi Come action Vediamo se Sì Ce le ho tutte sicuro Ragazzi Ce le ho tutte A questo punto Ce le ho tutte Una quarantina Le dust Vabbè Beh Facciamo Magari La prossima Vabbè Ragazzi Noi vi lasciamo Con Questo schifo Di arena Perché Non si può commentare Insomma E niente Fateci sapere Se a questo punto Se anche voi Siete Sfigati Come noi Nella scelta Delle carte In arena Perché A sto punto Non sappiamo più Cosa pensare Sinceramente E niente Raga Che dirvi Ci vediamo alla prossima Alla prossima Ciao ragazzi Ciao